Era il febbraio 2015 quando le fiamme gialle e aretine scoprirono una maxifrode all'iva nel commercio di metalli preziosi, prevalentemente argento ma pure palladio e platino. Questa mattina 32 orafi, ritenuti protagonisti della vicenda, sono comparsi di fronte al giudice Giampiero Borraccia per l'udienza preliminare che ha dato così avvio al processo che fa capo all'operazione della Guardia di Finanza Argento e Vivo. L'associazione a delinquere è finalizzata alla truffa ai danni dello Stato per un'evasione milionaria dell'iva e emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e reati contestati. In questi anni gli inquirenti hanno terminato l'elenco di tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella vicenda, tra questi anche Plinio Pastorelli, ex consigliere delegato di Orio Italia Trading. La società, controllata in passato da Banca Etruria, poi dismessa una volta subentrata UBI. Alcuni degli imputati questa mattina hanno scelto la strada del patteggiamento e dei riti abbreviati, altri invece hanno optato per il rito ordinario e quindi in caso di rinvio a giudizio si andrà a dibattimento. Avete chiesto un patteggiamento per i reati non fiscali e un rito abbreviato per i reati fiscali. Esatto, perché il patteggiamento è la stessa persona che si divide in due tempi, il primo nel patteggiamento, ma che se sei fai su tutto, ma sui reati che fanno parte è vietato, a meno che uno non paga allo Stato il tributo evaso. La prossima udienza è stata fissata per il 28 marzo, il giudice dovrà esprimersi sui riti alternativi e sui rinvii a giudizio. Le fiamme gialle nel 2015 evidenziarono la presenza di due distinte organizzazioni criminali, con a capo due retini noti nel distretto orafo locale, che pur non avendo alcun ruolo formale nelle società coinvolte, erano in grado di controllarne l'operatività. Il meccanismo contestato riguardava metalli puri, comprati in ingenti quantità senza mai corrispondere l'IVA ai fornitori. Il prodotto grezzo poi veniva venduto ad un'azienda che a sua volta lo cedeva ad una società cartiera. A questo punto veniva fuso in verghe in un'altra azienda, trasformandolo così in semilavorato, teoricamente con tanto di IVA al 22% che però nessuno poi pagava. Infine il metallo veniva definitivamente ceduto al cliente finale, che lo faceva nuovamente affinare per ricollocarlo sul mercato. Il sistema, secondo l'accusa, avrebbe consentito di intascare alle organizzazioni criminali l'IVA generata dalle operazioni commerciali strumentalmente realizzate.